dentro o fuori il prato sarà protagonista della semifinale playoff in programma domani con inizio alle ore 16 al centro sportivo immergas di sorbolo conto il lentigione che ha chiuso al terzo posto in classifica la partita sarà giocata in gara secca con il lentigione che avrà a disposizione per l'accesso alla finalissima due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in classifica il prato invece per accedere alla finalissima avrà un solo risultato a disposizione la vittoria per cercare di dare in eredità la nuova società la possibilità di un eventuale ripescaggio e comunque il prestigio di aver vinto i playoff e per riscattare anche il brutto scivolone di sorbolo con il lentigione quando ci preso rappallate e poi c'è diciamo un altro motivo che è prettamente sportivo per la sfida di sorbolo con il lentigione il tecnico aldo filicano dovrà rinunciare a tomi e napoli indisponibili oltre a gentili e bertolini infortunati per quanto riguarda la formazione da mandare in campo il prato dovrebbe proporre piretro in porta difesa con cicchi e scianname esterni mentre giampa e tognarelli formeranno la coppia centrale al centrocampo spinosa con minardi e carli mentre sanata agirà ridosso delle due punte falchini e tavano lì sarà dura però noi ci dobbiamo credere a questo punto e dobbiamo volerla fino alla fine godiamoci questi playoff cosa è scattato in questo prato che ha cambiato marcia nel finale ma ci sarebbe tanto da dire diciamo che è stata una stagione difficile in cui ci sono stati un sacco di problemi ma questo non solo per noi diciamo per tutti e dico solo che che forse c'è anche un po' di rammarico per quello che avrebbe potuto fare questa squadra perché io guardo i miei compagni e dico cavolo la squadra per me è fortissima però purtroppo ogni stagione ha la sua storia e è andata così e ormai abbiamo raggiunto questo quarto posto e andiamoci a giocare playoff nel migliore dei modi. Una sfida affascinante che in caso di affermazione potrebbe spalancare al prato l'accesso alla finalissima playoff per cercare di dare lustro ad una stagione vissuta sempre in tono minore insomma per salvarsi in calcio d'angolo per usare una metafora calcistica.